L'Unbeck Italia ha colto con piacere la possibilità di essere partner di un'iniziativa di valore come quella di poter affrontare il tema della salute mentale e di correlare il tema della salute mentale al tema dello sport. Come azienda siamo fortemente convinti che la salute parta dal cervello e che lo sport sia una di quelle leve fondamentali per il benessere complessivo. Sappiamo altrettanto, ce lo ricorda l'OMS, che non c'è salute senza salute mentale, quindi come azienda promuoviamo tutte quelle attività che consentano a ciascuno di poter essere al proprio meglio, di poter vivere la propria vita a pieno e lo sport rappresenta di fatto una di queste attività.